La provincia di Perugia è stata vittima di un attacco informatico finalizzato a creare un disservizio attraverso la criptografia dei dati dei server interni. Gli esperti dell'ente insieme agli specialisti della società responsabile della sicurezza informatica hanno prontamente reagito per affrontare la situazione. La provincia di Perugia ha un forte impegno per la sicurezza informatica ed ha implementato negli ultimi tempi un sistema di sicurezza perimetrale con firewall di nuova generazione a luglio. A settembre l'ente ha anche aderito all'accordo quadro Consip Cyber Security 2 con un significativo investimento virato a creare una barriera protettiva per la sicurezza dei dati. Questo investimento ha consentito di bloccare l'attacco.